Ciao a tutti e ciao a tutte, eccomi tornata con un nuovo video, eccomi tornata proprio in toto, nel senso, sono assente da youtube da circa 5 mesi, 6, intanto vi chiedo scusa per il cambio di angolazione, ma vabbè come potrete notare lì sulla scrivania c'è un disordine cosmico, ma è peggio quello che c'è sui letti, quindi ho preferito mettermi da questa parte della stanza, perdonatemi per la luce ma come sapete le mie risorse sono molto rudimentali e quindi vi chiedo scusa se non sarà una luce perfetta, comunque volevo dirvi che appunto sono mancata da 5 mesi su youtube, per 5 mesi su youtube, perché appunto ho avuto dei problemi con il mio vecchio computer, praticamente a luglio si è fuso l'hard disk e quindi non ho potuto più editare video, avevo già dei video pronti da caricare per il canale, un sacco di cose, però purtroppo il computer mi ha abbandonata e io sono stata costretta purtroppo a dovermi fermare, ho cercato di portare avanti la mia pagina instagram, finché non ho ripreso a lavorare a settembre, però considerate che io lavoro in una scuola dell'infanzia e lavoro 7 ore e mezza al giorno, quindi praticamente la mia fascia oraria è proprio di tutta la giornata, inizio al mattino alle 10 e finisco alle 6 e mezza, il tempo che torna a casa comunque c'è un'oretta più o meno di tragitto in tutto, poi alla sera chiaramente uno cena, si gode un po' la famiglia, si gode un po' la quotidianità in casa e chiaramente il tempo per i social viene proprio messo in secondo piano. Adesso comunque che sono tornata in possesso del mio computer e quindi posso magari tornare anche un po' di più assiduamente su youtube, cercherò comunque di fornirvi un video a settimana, specie in questo periodo un po' natalizio, in cui magari posso farvi dei vlog, posso farvi degli suota la spesa con mia mamma o comunque dei video make up con mia sorella, quindi ovviamente cercherò di portarvi tanti contenuti in più. Vi consiglio comunque di seguirmi su Instagram, vi lascio da qualche parte il nickname così potete seguirmi e appunto essere sempre informati su quello che succede insomma. e come vedete nuovo look, ho tagliato un po' i capelli e nulla, vi chiedo scusa appunto se sono andata senza preavviso, senza avvisarvi all'improvviso, vedo che comunque siete rimasti, non mi avete abbandonata e di questo ne sono contentissima e nulla. per il momento io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto al prossimo video, ciao!